Super al Santiago Bernabé di Madrid, si piazza a livello del Libro Stadium di Glasgow, del Mineral di Belo Horizonte, del Luis II del Principato di Monaco, dello Yankee Stadium di New York, eppure in confronto a questi colossi è un piccolo stadio di provincia, ma grande a livello architettonico. Parliamo dello Stadio Mokagatta di Alessandria, che in quanto ad architettura sportiva rappresenta un piccolo gioiello. In stile neoclassico, presenta elementi architettonici del Settecento, appartenenti alla cultura greca e romana, sebbene il neoclassicismo puro, quello nato dopo la metà del XVI secolo, fosse caratterizzato da correnti diverse, con stili che praticamente includono già l'architettura cinquecentesca e si ripanono fino al XIX secolo. Lo si nota già dalla facciata dello stadio, che ricorda un tempio ellenico. Questo probabilmente è il motivo principale per cui è stato inserito in una classifica speciale, istilata da Archistadio, nota rivista specializzata nel settore. Più che di classifica, parlerei di categorie, ha specificato il suo direttore Antonio Cunazza, perché ogni stadio che abbiamo individuato si colloca in una precisa epoca storica. Per il Mokagatta abbiamo voluto premiare il contrasto tra la facciata maestosa e il contesto, cioè uno stadio piccolo a misura della città in cui sorge. In effetti, quando si parla di stadi, si pensa quasi esclusivamente allo sport e soprattutto al calcio, ma è sicuramente interessante e curioso l'abbinamento sport e storia. Perché proprio la storia della civiltà e dei luoghi può trasmettere l'importanza del ruolo che la cultura dello sport e la gestione colta del tempo libero rivestono nella definizione dell'identità dei popoli e delle comunità. L'antichità è infatti ricchissima di luoghi dedicati allo sport, ginnasi, palestre, stadi, circhi, anfiteatri, ipodromi, erano diffusi già in tutto il mondo greco e romano. E che l'impronta della storia sia aggiunta in maniera così limpida ai giorni nostri è motivo di orgoglio, anche per una città come Alessandria che è fatto dello sport una delle sue eccellenze. Dove in poi che entrerà nel complesso di Spalto e Rovereto farà anche un tuffo in un pezzo di storia, per cui sarebbe auspicabile averne la consapevolezza, sia per il pubblico, sia per le società classistiche e per i giocatori che scendono in campo.